Musica Aspetta, questo è Ingegneria Politecnico di Milano Allora, la gara di oggi sta nel distendersi orizzontali e una volta lì allungare le braccia sempre in posizione orizzontale parallela al terreno 1, 2, 3, via! L'impossibilità deve fare il centro, eh! Parte, parte! Oh, oh, Mario ce la fa! Guarda Mario! E poi c'è... Vediamo su questo pappera di cercare qualcosa Dai, che cosa cade il tempo, eh! Hai ancora 30 secondi? Che bello che c'è! È morto! Numero 2 degli esercizi a Politecnico No, giù bene le braccia... No, vabbè, sia ormai campione mondiale Dai Gianni, facci vedere tu, vai! Sì, però viene bene indietro Ma lui è più corto poi! Gianni è più corto! Eeeh! Fallo! Fallo! Vabbè che c'è la sfida finale, c'è anche Teo che ci prova! Ma te è quello che ha più problemi, Gianni, perché ci sono sempre collegati Ma te è il pacco che ti spazza il varicento No, io sì, poi no invece! Ehi, Fonda! Eeeh! Eeeh! Allora, vai! Allora, vai!